Va avanti il progetto di pedonalizzazione del lungolago di Pallanza e pare che a breve potrebbe diventare realtà. Ieri sera la discussione in commissione, questa mattina all'incontro del sindaco Silvia Marchionini e degli assessori Patrick Rabaini e Giorgio Comoli con commercianti e albergatori a Villa Giulia. Via le auto più spazio per passeggiare, per i tavolini di bar e ristoranti e per gli eventi estivi che sarà possibile organizzare. Il clima è propositivo, commenta Marchionini. L'ipotesi di sperimentazione, che potrebbe già partire dal 5 di giugno, riguarda il tratto tra l'idrobiologico e Villa Giulia, compresa la piazza Garibaldi, per la quale l'amministrazione vuole compiere un intervento urgente di riqualificazione. Per recuperare i posti auto sarà meglio segnalato quello dell'ospedale Castelli e si pensa di ricavarne altri nella zona delle scuole Cadorna. I commercianti potranno ampliare i deore e saranno garantiti anche i parcheggi per gli alberghi. Convinto dell'iniziativa, Rabaini, credo che abbiamo voltato pagina e ora ci troviamo davanti a una svolta. Questo progetto era stato già pensato da Marco Paracchini nel 1990. Ora lo possiamo finalmente realizzare.